Guarda qua che figata, pannello fotovoltaico appeso. Compattissimo, compattissimo, anche l'app, guarda Giamma, uno scenografo Giamma. Mi ha fatto trovare anche l'app montata, intuitivissima da un punto di vista di utilizzo e di lettura. Ecco che distrutgo il terapine di Giamma. Ciao Coponici e ben tornati sul canale. Nel video di oggi siamo qua per parlarvi di una collaborazione con EcoFlow, un'azienda che produce kit plug and play per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Infatti come potete vedere qui alla mia destra e alla mia sinistra abbiamo alla mia destra il prodotto dell'EcoFlow, il River 2, che è una batteria con inverter e regolatore di carica che ha una potenza di 300 watt con un picco di 600 watt. Mentre invece alla mia sinistra abbiamo un pannello pieghevole che permette di produrre fino a 110 watt. Abbiamo deciso di realizzare questo video perché questi kit prodotti da EcoFlow secondo ne sono molto utili per diversi utilizzi e infatti da questo momento in poi potrete trovarli disponibili anche sui nostri coppici. I prodotti di EcoFlow sono perfetti per permettere il funzionamento di un impianto di acquaponica, che si è reso in verticale o in orizzontale, così come per il funzionamento di un impianto di idroponica o ad esempio anche per garantire il funzionamento di una pompa se avete un laghetto all'aperto. Quindi in generale perfetto per tutti quei luoghi dove non è possibile avere un con un allacciamento alla corrente elettrica e quindi in questo caso questi tipologie di kit sono perfetti per rendere i propri impianti off. L'EcoFlow River 2, ovvero il modello che vi stiamo presentando oggi, è il più piccolo della gamma. Nonostante il più piccolo comunque ha un'ottima potenza, come abbiamo già detto parliamo di circa 300 watt di carica di utilizzo, fino ad arrivare a un picco anche di 600. È molto versatile, oltre che essere piccolo e comodo da utilizzare, pesa anche poco, infatti noi adesso ci troviamo all'interno dell'orto delle serie dei giardini Margherita e il bello appunto è dei kit plug and play che l'abbiamo posizionato così com'è, attaccato i pannelli e già sta funzionando alla perfezione. Infatti dopo vi faremo vedere in dettaglio anche quanto sta consumando e quanto si sta caricando allo stesso tempo. Tutti i modelli dell'EcoFlow possono essere caricati sia con il pannello solare oppure attaccandolo direttamente alla corrente elettrica. Infatti in dotazione la dita che cosa dà? Dà sia il cavo per poterlo appunto collegare alla corrente normale, che si collega da dietro, oppure un cavetto molto comodo da 12 volt per poterlo collegare all'accendisigari della macchina in modo tale da permettere di poterlo caricare anche in viaggio. Infatti questa cosa è molto comoda e noi lo utilizzeremo molto spesso anche per i nostri viaggi di lavoro. Ok Coponici come vedete? Comodissimo perché il pannello pieghevole ha gli attacchi con i moschettoni, vabbè noi poi l'abbiamo adattato in questo momento ma era il posto più comodo visto che il sole è molto basso, è là esattamente dietro il palo. Quindi comodissimo, appoggiato qua, perfetto. Adesso Giama sta sistemando altri due moschettoni perché tra poco ci spostiamo nelle torri di coltivazione. E come vedete comodissimo e anche ben fatto direi perché abbiamo subito sui pannelli pieghevoli gli attacchi, ovviamente gli attacchi quelli apposta per i pannelli fotovoltaici. A questi due attacchi positivo e negativo l'Ecoflow ci dà ovviamente il cavetto con i rispettivi attacchi, ok? Il cavetto sempre positivo e negativo da collegare. Faccio vedere un esempio. Qui attacchiamo il polo positivo, comodissimo, con una mano. Si riesce a fare anche con una mano con questi attacchi, plug and play, collegato. Colleghiamo anche il polo negativo, ok, fatto. Il cavo scorre, arriviamo in fondo al cavo, eccolo qui, con il suo jack, chiamiamolo così, attacco specifico che diretto arriva dietro il River 2, ci colleghiamo e siamo già in carica. Vediamo quanto ci dà, ci dà 66 watt, 67. Ok, subito in carica, ovviamente come diceva prima Gianma c'è un po' di ombra sul pannello ma non è un problema, quindi comodissimo, davvero subito, velocissimo da collegare e mettere in funzione. Ovviamente anche se non collegato, essendo una batteria comunque ad accumulo, potete non collegare, vi faccio vedere, adesso lo scollego, scolleghiamo il cavetto dietro e riusciamo lo stesso a tenere in carica i nostri dispositivi con i loro vari assorbimenti, quindi comunque funziona appunto anche come accumulo. Al momento stiamo già caricando diversi elettro utensili, ad esempio con la presa Shuko da 220 abbiamo caricato il caricabatterie per le batterie dei nostri attrezzi, tra apno, avvitatore, smeriglie e via dicendo. Alla presa USB A stiamo caricando le batterie della telecamera con la quale stiamo facendo questo video e nonostante abbiamo già collegate queste due cose abbiamo altre prese disponibili, ovvero abbiamo un'altra USB C, un'altra USB A e la presa per attaccare l'accendisigolo, quindi 12-24V. Tutti i dati per quanto riguardano la produzione di energia elettrica derivanti in questo caso dai pannelli fotovoltaici presenti dietro le mie spalle e tutti i dati di consumo di energia elettrica dovuti dalla presa 220 e dalle prese a 12-24V sono facilmente leggibili sia dallo schermo presente direttamente sul River 2 oppure anche dalla comoda app che può essere scaricata sul telefono. Abbiamo deciso di mettere sotto sforzo il River 2 collegandolo direttamente a un impianto in idroponica, impianto in idroponica perché abbiamo un tank che contiene le soluzioni nutritive con una pompa che la porta direttamente in prossimità di queste tre torri. Ogni torre ha 13 slot di coltivazione che sono le nostre mini braghe DVT. Al momento il River 2 è collegato con il pannello fotovoltaico e andando a vedere sull'applicazione abbiamo un'entrata di energia di 110 watt in quanto ha un'ottima esposizione il pannello in questo momento mentre invece abbiamo un'uscita di corrente quindi un consumo della pompa di circa 30 watt. La cosa bella è che con quella pompa con quel consumo potremmo andare alimentare tranquillamente anche un centinaio di piante. Considerando che abbiamo un consumo positivo al momento ovvero abbiamo più corrente che più energia che entra rispetto a quella che esce possiamo tranquillamente utilizzare questo modello per coltivare in fuorisuolo completamente off grid. Inoltre nostra mini braga come non mai ben sapete presenta una riserva idrica che permette quindi di ottimizzare ancora più il consumo di energia elettrica. Infatti grazie a questa riserva di acqua presente in prossimità di ogni pianta è possibile mantenere accesa la pompa un quarto d'ora sì e 30-45 minuti no. Inoltre la sera possiamo completamente staccare la pompa in quanto durante la sera avremo un minor consumo di acqua e l'acqua presente in prossimità dell'apparato radicare sarà più che sufficiente. Guarda qua che figata pannello fotovoltaico appeso compattissimo compattissimo anche l'app era Giamma. Un scenografo Giamma mi ha fatto trovare anche l'app montata intuitivissimo da un punto di vista di utilizzo e di lettura ecco che distrugge il terapone di Giamma. Ecco qua LCD, tasto di accensione. Soprattutto possiamo anche accendere e spegnere le due prese cioè quella dell'accendisigari e quella della 220. C'è un comodissimo tasto on off quindi io posso cliccare e spegnere. Vedete è andato su zero l'assorbimento perché ho spento la presa. Infatti è quando invece la riaccendiamo con un comodo tasto diventa azzurro il led all'interno e adesso dovrebbe riprendere l'assorbimento come vedete quindi la pompa si è ricollegata e infatti l'impianto è ripartito. Quindi questo schermo è davvero comodissimo per la lettura proprio immediata di quello che sta succedendo al nel nel prodotto e come piccolo dettaglio vi dicevo prima adesso scolleghiamo di nuovo la pompa. Sciuco quindi già ma vi diceva proprio che qui abbiamo l'uscita dall'inverter con una classica sciuco che o ci collegate direttamente la presa oppure magari ci mettete un adattatore uscite con una ciabatta e quindi potete anche moltiplicare gli attacchi ovviamente tenendo sempre presente gli assorbimenti che vi diceva, gli assorbimenti che l'inverter riesce a sopportare che vi diceva prima Gianmarco. Come vedete qua alla mia destra ho il comodo e trasportabile River 2 davvero molto leggero per la potenza e la durata delle batterie. Come abbiamo appena detto è collegato un impianto di idroponica ma perché vi parliamo di idroponica? Perché stiamo facendo una sperimentazione con l'università e stiamo facendo un confronto tra idroponica e acquaponica. In questo caso il modulo di idroponica come abbiamo appena detto ha la sua tank con le soluzioni nutritive. Abbiamo la pompa che con un tubo da 16 che esce da qua porta l'acqua direttamente in alto in prossimità di ogni torre. Dopodiché l'acqua passa attraverso ogni mini braga e attraverso questo comodo tubo da 40 l'acqua ritorna di nuovo in tank. Abbiamo quindi il classico ciclo dell'idroponica. Il bello quindi del River 2 è che in due minuti siamo riusciti a collegare sia il pannello fotovoltaico, appenderlo in questo caso la struttura in metallo e allo stesso tempo sempre in due minuti collegarlo direttamente con il River 2. Quindi come abbiamo già detto prima questo è il bello del kit plug and play anche per chi non è uno smanettone con un piccolo investimento perché comunque parliamo anche di cifre piuttosto abbordabili sia in grado di rendere il proprio impianto di coltivazione che sia idroponica o acquaponica completamente off grid. Come potete notare il River 2 è piccolo ma potente. Questo perché? Perché utilizza la tecnologia delle batterie a litio e inoltre questa tecnologia permette ad avere ricariche rapide, avere una batteria diciamo piuttosto leggera, parliamo di appena 3,5 kg e allo stesso tempo permette di avere un utilizzo molto prolungato nel tempo. Infatti questi prodotti hanno una garanzia di 5 anni possono essere utilizzati per 10 anni praticamente tutti i giorni e può reggere tranquillamente più di 3.000 ricariche. Bene ora Giamma veloce tutorial sul come montare i pannelli utilizzando il supporto custodia con abbiamo anche i pratici moschettoni qua nel palmo di una mano bene. Giamma due secondi fa ha visto le istruzioni vediamo se si ricorda non lo vedo molto sul pezzo eh vediamo ok forse c'è quasi eh quindi abbiamo aperto la custodia così seguendo proprio le cerniere poi apriamo il libro benissimo ma quanto questa cosa è troppo bella troppo figa questa cosa boom fatto no dobbiamo mettere i moschettoni Giammi è corretto ok quindi adesso io te li passo ok li dobbiamo far combaciare qui qui lì bravo ok tu lo metti là io lo metto di qua ah non mi sta aiutando ah ok ok buon messo grande Giammi perfetto vai appoggiamolo anche di qua guarda qua te l'ho già aggrappato velocissimo avete già un supporto pannello l'inclinazione è buona a parte la mia testa che fa l'ombra e con i pannelli l'acoflow ci dice che con i pannelli correttamente esposti abbiamo un tempo di ricarica che va da l3 alle 6 ore dell'intera batteria quindi comunque molto molto comodo non dovete per forza appenderli come abbiamo visto insomma qualche clip fa ma in realtà potete utilizzare la stessa custodia come supporto e questo è un altro vantaggio non da poco quindi acquaponici non so se anche voi vi siete innamorati di questo prodotto noi personalmente si in quanto troviamo molto utile e versatile ed è per questo che abbiamo deciso di rendere disponibile sia il river 2 che tutto il catalogo in generale dei vari prodotti offerti dall'ecoflow sul nostro e-commerce fateci sapere anche voi che cosa ne pensate di questo prodotto qua sotto nei commenti per qualsiasi dubbio o curiosità ovviamente oltre che commenti avete anche la nostra mail info.quaponikdesign.it e detto questo noi ci vediamo col video di domenica prossima ciao quaponici ciao